Cosa vanno? A Roccella è arrivata una sconfitta che ha lasciato la mare in bocca, però è arrivato il momento di ripartire. Sicuramente, perdere fuori casa e soprattutto con Roccella che è una squadra di bassa classifica, però si sapeva che loro lottavano per quei punti, dato che stanno abbastanza bassi in classifica. Noi purtroppo non ci siamo arrivati con il giusto atteggiamento e ne abbiamo pagato a care. È il finale di stagione in questi gironi, sono così, che le più forti sono quelli che ci mettono la grinta e l'agonismo in continuazione. Quindi vediamo noi di ripartire domenica, partita in casa, la penultima in casa, contro una buona squadra che si sta dietro di noi. E quindi, a parte essere una partita decisiva sia per l'aritmetica dei play-off, è anche importante a livello di gruppo e per una bella partita a livello di sostanza e qualità. Ecco che partita dobbiamo aspettarci dal Contrasse Barone. L'Ercolanese è una squadra molto forte, anche se è riducita a due sconfitte consecutive con Vibonese e Messina, che sostanzialmente hanno pregiudicato anche la corsa dell'Ercolanese al primo posto, un po' come è avvenuto per voi nelle ultime due giornate. Sì, comunque, come l'Ercolanese, anche noi arriviamo da due risultati sicuramente non massimali. Sarà una partita guerrita e ci giochiamo entrambi le zone play-off quarto e quinto posto, perciò dovremo dare il massimo. Loro arriveranno qua con la cattiveria perché arrivano a due sconfitte, quindi sarà una partita davvero tosta, però noi ci dobbiamo mettere il nostro, è la penultima in casa, quindi dobbiamo portarci a casa i tre punti obbligatoriamente. Per due del primo posto, che era un po' un sogno per l'Igia Virtus, c'è il rischio che vengano meno un po' di motivazioni in questo finale di stagione? Un rischio che tutti vorrebbero evitare, chiaramente. Allora, sì, sicuramente che se si continuava a vincere, se continuava sulle ali dell'entusiasmo, cioè si poteva fare sicuramente le ultime due partite due vittorie, quello sicuramente, ma noi non ci perdiamo d'animo. Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di raggiungere l'aritmetica dei play-off. L'entusiasmo c'è nello stesso modo che c'era prima, sicuramente non è così vispo da primo posto, però l'obiettivo dei play-off è sempre di alto obiettivo. Ecco, mancano cinque giornate alla fine, il calendario non è tenero con l'Igia Virtus, tre gare in trasferta, due in casa, con avversari motivati, c'è chi si deve salvare, c'è chi come la Vibonese questo campionato vuole provare a vincerlo. Prima parlavi del giusto atteggiamento, che forse è un po' mancato nel secondo tempo di Rocella, c'è bisogno della migliore Igia Virtus per chiudere al meglio una stagione che è sicuramente positiva. Sicuramente a livello agonistico e di carattere bisogna dare il massimo. Proprio il massimo e vince adesso sotto quell'aspetto, poi si vince con la qualità, con i gran gol e con i singoli che ha questa squadra. Sono partite toste perché comunque è finale di stagione, molte squadre si devono salvare, altre puntano a vincere il campionato come la Vibonese, perciò nessuna partita è facile, nessuna da domenica all'ultima giornata a Palmi. Quindi noi abbiamo il nostro obiettivo e cercheremo di raggiungerlo il prima possibile e di finire nel miglior modo possibile sicuramente, a livello singolo che è di squadra e di toglierci soddisfazioni perché ce lo meritiamo. Chi lo vince questo campionato secondo te? La più forte. Cioè la Vibonese forse? La più forte vincerà. Vediamo, sono tre squadre a 61 punti, giusto? Quindi vincerà la più forte, non ti posso dire né Nocerina né Vibonese né Troina, vincerà chi sarà più forte e alla fine del campionato. Ecco, è arrivato il momento di un primo bilancio per quanto riguarda la tua avventura qui a Barcellona a Pozzo di Cotto, sono arrivati dei gol di pregevole fattura, qualche altro poteva venire, sicuramente tutto molto positivo. Sì, sono quattro mesi positivi perché comunque noi siamo quarti, qualche gol è avvenuto e quindi si cerca di finire le ultime cinque partite a livello mio personale nel miglior modo possibile sicuramente, segnare più gol possibili e cercare di aggiudicarci playoff già da domenica questa in casa, cercando qualche punizione magistrale. Ecco, è ancora presto per parlare di futuro, però il futuro di Cosaone potrebbe ancora essere a Barcellona o è davvero troppo presto per dirlo? Credo che sia davvero troppo presto per capire perché nemmeno io ci penso adesso a dove andare perché se faccio le ultime cinque partite come si devono, dando il massimo e segnando, secondo me è un giocatore come me del mio carattere che cerca di arrivare, di far carriere, di arrivare il più in alto possibile, è quello di far meglio possibile per poi ritornare tra i professionisti, questo è il mio obiettivo. Magari anche con l'Igia Virtus? Se dovessero andare, non si sa, se si dovesse qua presentare la possibilità della Lega Pro non sarebbe una brutta idea. Magari anche con l'Igia Virtus?